Sì, Presidente, Sindaco, per dichiarazione di voto, il Partito Democratico, in questa occasione, noi abbiamo messo attentamente a questo documento, perché progressivamente ci vede, che è un documento che si vede, precisamente, a regolare, a regolarizzare, dovevo che è tantissimo, la macchina comunale, in questo caso il patrimonio, il patrimonio e il patrimonio, il patrimonio di Carsoia, e vista la posizione nostra, che in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni, si è determinato che il Partito Democratico si trova all'opposizione, all'interno di questo Consiglio Comunale, noi per dichiarazione di voto ci assegniamo di questo atto amministrativo, che è un atto che, di forte responsabilità, e poi fare avanti le questioni, problemi, che attoghiamo a togliere, che in questi attori siano positivi, e vorremmo tutto questo, perché in scala, in scala, non radiede, non con quello che sono, l'interesse che si tratta di un patrimonio, in maniera, una maniera diversa. Per quanto riguarda questo atto, c'è una scezione del Partito Democratico. Va bene, allora, perfetto, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, forzichiamo la votazione allora. Chi è favorevole? No, il consigliere Cortese e il consigliere Polizio, chi è favorevole? Alta la mano, chi è contratto? Rimane con la firma, chi si attiene da un grado in un terzo momento? Qui, chi è favorevole? Allora, solo no. Allora, sono antici valorevoli. Allora, chi è il contrario? Quindi chi si attiene? Sono uno, due, tre, tre, quattro. Sono unici, sono unici, sono unici, non sono unici, sono unici. Grazie.